Ciao a tutti, come abbiamo fatto parlare nel video precedente, vi volevo parlare della mia alimentazione, è molto più specifico. Quando vado a fare la spesa, vado moltissimo a vedere l'offerta del momento, e quindi valuto molto su cosa mangiare e cosa non mangiare. Amo moltissimo mangiare anche, come ho detto prima, la pasta, ma adesso pure la verdura, la frutta, la mangio... La frutta non sempre, qui sgarro un pochettino, perché non è che mi piace molto mangiare la frutta, però prefisco molto mangiare la verdura, quindi ho fatto i miei spizzichini, i miei stuzzichini di verdura, tutto quanto, però... Vi dico, mangiate frutta e verdura di stagione. Comunque, non voglio farlo spazio, però mangiare frutta di stagione che fa molto bene. Come ho detto, la mia alimentazione nel video precedente è molto variabile a seconda del mio umore. Perché? Perché secondo me penso che l'umore e il cibo sia legato, come attività fisica, al cibo. Penso che se siamo molto tristi, l'umore è tipo... ...sale e scende. E penso che l'alimentazione è più importante, forse è quella che ti dà tanta energia. Però dobbiamo sempre essere attenti, cioè voglio dire come non vi ho detto precedenti, non so, né nutrizionista né di talora. Dobbiamo essere attenti alle quantità che mangiamo. Perché? Purtroppo, quando noi mangiamo, siamo per esempio, tipo, tristi, mangiamo tantissimo. E quindi ci scofoniamo, gelati, biscotti, quello che troviamo davanti in casa. La prima cosa che provendiamo, la mangiamo proprio in continuazione, come vedendo un film triste. E continuiamo a mangiare, a mangiare, però non ci rendiamo conto che poi piano piano li evitiamo. Quindi dobbiamo essere attenti alla quantità che mangiamo. Amo, come ho detto prima, io amo moltissimo mangiare. Però, come voglio dire, dobbiamo essere attenti a non fare una vita molto sedentaria. Perché avendo una vita molto sedentaria, tendiamo a stare fermi, a non muovere. E quindi il nostro corpo li mette, i grassi che abbiamo introdotto nel nostro corpo, li mettiamo sulla pancia, sul sedere, sulle gambe. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Io dico che è molto importante sia l'alimentazione, una buona alimentazione, che anche una buona attività fisica. Io non dico che per forza vi dovete scrivere in palestra, cioè io non vi sto di Ah, vi dovete scrivere in palestra, no, dai, perché dovete fare così. No. L'attività fisica può essere camminare, una bella camminata, anche quell'attività fisica. Oppure, dipende poi comunque da persona a persona, camminare aiuta tantissimo, anche a perdere peso. Quindi è bello pure camminare. L'aria pulita, l'aria aperta, tutto quanto. Un'altra cosa che penso che forse molte persone non se ne rendono conto, di quanto cibo abbiamo, quanto siamo fortunati del cibo che abbiamo, perché in molti paesi purtroppo non stanno nella nostra stessa condizione. E molto spesso le persone buttano il cibo, che è già di la sera, molte persone lo buttano. Molte, io parlo in generale, non parlo in particolare, ma molte persone lo buttano e non si rendono conto di quanto sia preziato quel cibo, perché molte persone purtroppo non lo hanno e si trovano in una condizione di morire di fame. Io dico, è brutto perché le persone soffrono, no? E loro buttano così tanto cibo, lo buttano proprio come che non interessasse niente il problema che ci stanno, che in molti paesi non si possono permettere determinate cose, non si possono mandare determinate cose. Quindi prima io non buttano, senza amenefreghismo proprio, è stato pura. Penso che forse noi siamo molto fortunati di essere cresciuti in un paese come l'Italia, che nonostante tutto è un paese, per il mio punto di vista è molto da tanto, ma forse deve migliorare tutte le cose, ma passiamo avanti. Una cosa che penso che l'alimentazione sia molto importante, che sono dalle scuole, penso, primarie, dove parlare di educazione alimentare, penso perché sia una cosa migliore dall'inizio a parlare delle buone educazioni alimentari, tutto quanto. Io non dico, no, non devi andare lì, no, non devi mangiare quello, no, non devi fare quello, no. Io pure vado al McDonald's, spizzico a tutti i negozi di contenterati junk food, ci vado pure io, eh, non vi dico, no, io no, ragazzi, io mando solo serio. No, perché sarebbe una bella, perché penso che tutti, ma, cioè io lo penso, qualsiasi persona sgarra nel mangiare, quindi io penso che dobbiamo essere carichi di sgarrare qualche volta, ma non di sgarrare tanto. Mi mando tantissimi saluti e spero che questo video vi piaccia. E mi mando tantissimi saluti. Ciao! Ciao!